Noto, serata danzante senza autorizzazione, denunciati un giovane e una donna a Volesi. Nel primo pomeriggio di ieri i leggenti del commissariato di Noto hanno denunciato un giovane di 30 anni e una donna di 45 per il reato di apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo in assenza delle condizioni di sicurezza sancite dal testo unico per i pubblici spettacoli. In particolare lo scorso 16 giugno alle 21 circa i poliziotto intervenivano presso una villa in San Corrado di fuori poiché era stata segnalata una serata danzante non autorizzata. Gli agenti verificavano che erano presenti circa 50 persone, un DJ che aveva posizionato impianti e casse per la diffusione musicale e l'allestimento di un catering per la consumazione. Da accertamenti sui profili social la festa in questione era stata pubblicizzata come festa aperta al pubblico con pagamento del biglietto 15 euro compensivo di consumazione. Le indagini conducevano agli organizzatori della Senato, un uomo e una donna a Volesi che nella giornata di ieri sono stati denunciati. Grazie. Grazie.